Musica Vuoi vincere una skin o devobux gratis su Forte? Basta iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video Più amici fare iscrivere, più possibilità di vincita avrai Non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o vubux Benvenuti a tutti in questo nuovo video, in questo nuovo video andremo a vedere come ottenere il nuovo pacchetto Yellow Jacket su Forte Prima di iniziare ricordo di lasciare un bel like, iscriverti e attivare la campanella e le notifiche per essere sempre aggiornato su questi tipi di video e la vedremo che lo skin o pass battaglia Partiamo subito parlando di questo nuovo pacchetto, nuovo pacchetto che appunto arriverà o a fine season o all'inizio della prossima season Questo pacchetto è stato trovato nei file di gioco con la patch 12.50 e è stato appunto decriptato E adesso vi farò vedere cosa conterà questo pacchetto, quanto costerà per ottenerlo Quindi questo pacchetto conterà la skin che sarà questa qua, Yellow Jacket, appunto che dà nome anche al pacchetto Il suo backpack è un piccone, quindi backpack e piccone e conterà anche 600 V-Bucks Quindi questo pacchetto costerà solamente 5,4€ e con 4,99€ potrei portarvi a casa una skin, un piccone, un onzanetto più 600 V-Bucks Quindi è davvero molto conveniente perché pensando che con 5€ possiamo acquistare 500 V-Bucks e questo pacchetto allo stesso prezzo ci dà moltissime altre cose Vi ricordo che questo nuovo pacchetto uscirà nel negozio Jet esattamente qui vicino dove c'è la skin Eilis adesso Non ci sarà più la skin Eilis ma ci sarà questo nuovo pacchetto Yellow Jacket Uscirà tra qualche settimana o nella prossima stagione, inizio prossima stagione Adesso vi lascio un piccolo gameplay di qualche minuto di come sarà questa skin col suo piccone in game E noi ci vediamo a fine video E noi ci vediamo a fine video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti